Voga 2016, Weekend in RELAX. FESTA SCATENATA! Sì, musica e tutto volume! La trovate sul doobly-doo, la trovate sulla scheda INCREATIVE COMMONS! Scherzi a parte... Uh! Allora, è possibile rilassarsi ad una festa scatenata, ma secondo me da una parte no, dall'altra perché sto gridando così ho abbassato il volume, aiuto! Da una parte non è possibile rilassarsi in una festa scatenata, però dall'altra è possibile quantomeno divertirsi in una festa scatenata. E comunque ci può stare una festa di fine estate, visto che ormai siamo al 28 di agosto, quindi siamo alla fine di agosto, per cui questa sera anche io probabilmente mi divertirò con gli amici in una festa scatenata. E tu che cosa fai per finire quest'estate, per finire quest'agosto, anche se il voga non è finito? Fammelo sapere con un commento qua sotto, fammi sapere se per un weekend in relax ci può stare anche una festa scatenata. Io sono Grizzly, questo è Voga 2016, noi ci vediamo domani!